Oggi pomeriggio a Ragusa, domani ad Agrigento. Va avanti il programma per l'apertura dei punti vaccini nel città capoluogo in Sicilia. Anche qui nel capoluogo Ibleo, oltre un centinaio di operatori sanitari fra medici e infermieri, 24 postazioni, la protezione civile con i suoi volontari mobilitata per allestire in brevissimo tempo, l'ASPE che ha coordinato ogni attività sanitaria. Stiamo lavorando in attesa che i vaccini possano arrivare nella giusta quantità e finalmente avviare senza più soste, senza più tentennamenti la campagna di vaccinazione per immunizzare i nostri concittadini. La campagna deve necessariamente crescere di volumi, la Sicilia ha recepito il piano nazionale voluto dal governo Draghi, adesso ci attendiamo un numero significativo di dosi nei mesi di aprile e maggio per arrivare verso l'estate avendo immunizzato la gran parte dei cittadini siciliani.